Un incremento di visitatori paganti del 10% in più rispetto allo scorso anno. La nove giorni dell'ottantesima edizione della Fiera del Levante chiude con un bilancio più che positivo, con un dato che radice lunga in termini di presenza e gradimento dei visitatori negli spazi della regione Puglia, offuscato solo in parte dal maltempo che ha imperversato nell'ultimo giorno, anticipando nella chiusura di qualche ora. La campionaria, che come ogni anno anche in questa edizione mette in correlazione le imprese locali e i mercati esteri, costituendo una vera e propria borsa affari internazionale, ha registrato grande interesse e affluenza record a partire dal padiglione istituzionale in cui convegni, agora, laboratori e workshop hanno offerto una panoramica dell'idea di sanità del governo regionale. L'edizione 2016 ha puntato comunque sui processi di internazionalizzazione delle aziende locali e sul lancio di nuove potenziali manifestazioni specializzate. Uno sguardo al futuro, dunque, con l'obiettivo di porre al centro le nuove generazioni e l'impatto che questi hanno con i processi di internazionalizzazione e di innovazione, così da sostenere e sviluppare le principali filiere produttive e industriali del territorio. 66 gli appuntamenti organizzati proprio dalla sezione internazionalizzazione con il contributo tecnico di Puglia sviluppo, workshop, seminari, country presentation, convegni, collegamenti con le radio, festival e associazioni dei pugliesi nel mondo. In dettaglio sono stati 300 gli incontri del country desk organizzati dalla sezione internazionalizzazione della regione Puglia nel nuovo padiglione in collaborazione con Fiera dell'Evante e Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise, con esperti di mercato di ben 22 paesi mondiali, Francia, Germania, Paesi Bassi e Slovenia, Albania, Bielorussia, Bosnia, Macedonia, Romania, Turchia, Corea del Sud, Lituania, Ungheria e Ucraina, Cuba, Repubblica Dominicana e Argentina, Malesia e Myanmar in Birmania, nell'elenco diverse new entry nelle azioni di internazionalizzazione programmate dalla regione Puglia, tra queste Malesia, Kazakistan, Azerbaijan e Iran, tutti paesi accomunati da un trend di sviluppo particolarmente sostenuto. Ben 6.000 persone si sono accreditate ai vari eventi, oltre alle migliaia che ogni giorno hanno attraversato gli spazi pubblici dei cinque padiglioni, immancabili poi i consueti ma rinnovati spazi che caratterizzano la fiera e ne hanno segnato nel tempo l'affermazione e la crescita come la Galleria delle Nazioni e quella dell'arredamento con il nuovo spazio in Italy Design in Puglia che ha segnato il coinvolgimento di 32 designer pugliesi e 20 imprese, favorito 80 incontri D2B, Design to Business, per avviare collaborazioni virtuose all'insegna dell'innovazione. E ancora i Giardini del Levante, settore espositivo diffuso che offre soluzioni nell'architettura del verde, nella costruzione di giardini e nel green design, bellezza mediterranea, area espositiva dedicata ai prodotti per l'estetica, cosmesi, bellezza e fitness, Mediterranean Health and Beauty, show e il mondo creativo, la fiera riservata alla creatività per tutti gli amanti dell'obbistica e del fai-da-te. 200 gli eventi tra congressi, agorà, conferenze, stampe e workshop organizzati con l'intervento di specialisti, addetti ai lavori e pubblico. Sala congressi sempre aggrimita per i nove appuntamenti di approfondimento sui temi più caldi dell'ecologia e tutela ambientale, gestione dei rifiuti e attività estrattive, depurazione delle acque e cambiamenti climatici organizzati nel padiglione dedicato all'assessorato a ramo ed acquedotto pugliese. Significativa è stata la presenza dei relatori prestigiosi del mondo della ricerca, dell'università e della magistratura, intervenuti ai convegni sulla nuova normativa di contrasto agli ecoreati. L'ottagono, dedicato ai pugliesi del mondo, è stato lo scenario di due tavole rotonde di approfondimento sul tema dell'emigrazione, 12 incontri con le associazioni di pugliesi del mondo riconosciute dalla regione Puglia, 9 presentazioni di libri di autori pugliesi del mondo, 11 collegamenti internazionali con i nostri co-regionali residenti in Canada, Australia, Europa, Cina, Stati Uniti, 2 collegamenti con festival italiani nel mondo, 10 proiezioni video sul tema dell'emigrazione e della promozione della Puglia all'estero. Il tema diffuso dell'innovazione non ha però tolto spazio alla tradizione, successo rinnovato infatti con la rassegna dell'agroalimentare, organizzato dalla regione Puglia con Puglia e Natura, il salone dell'agricoltura biologica a tutela dei prodotti tipici pugliesi realizzati in un senso di sviluppo etico dell'economia. Con Agrimed, vetrina preziosa, non solo per promuovere le politiche di sviluppo rurale, ma anche per raccontare i territori e le tradizioni enogastronomiche della Puglia e infine, ma non meno importante, il salone dell'enogastronomia in un viaggio fra i sapori e le specialità culinarie della tradizione pugliese italiana, una nuova edizione a portata di imprenditori, cittadini e turisti che è stata davvero tutta da scoprire.